La cassa integrazione in deroga per i 12 dipendenti del Corai, società in house della regione molise, attiva nella promozione turistica e nella tutela ambientale. Gli ammortizzatori sociali scadranno il 31 dicembre. Identica misura di sostegno con gli stessi tempi è stata adottata anche per i 74 lavoratori della San Stefar, società di riabilitazione sanitaria. Il 14 aprile terminerà invece la cassa integrazione straordinaria per 7 dipendenti della San Goben di Montenero di Bisaccia. Per loro si profila quindi la mobilità. Il direttore del personale ha spiegato che la chiusura del sito rientra in un programma di ristrutturazione aziendale, conseguenza della grave crisi economica. I sindacati chiedono alla multinazionale, che gestisce anche uno stabilimento a Termoli, di salvaguardare almeno i lavoratori più giovani. Altra situazione difficile al carsic di Venafro. Sui problemi nell'organizzazione del servizio ed il mancato pagamento degli stipendi al personale, l'assessore Petraroia sollecita un tempestivo chiarimento in linea con gli impegni assunti dall'azienda nei recenti accordi siglati al tavolo della vertenza.